L'elemento innovativo di questo corso consiste nel fatto che un fisico e un sociologo dialogano non soltanto per esporre le proprie conoscenze specialistiche ma per cercare di offrire un pacchetto che sia un mix anche difficile da prevedere dell'incrocio tra le due discipline con un obiettivo preciso, quello di far provare agli studenti e ai cittadini che hanno scelto di seguire questo corso che cosa vuol dire avere a che fare con le informazioni scientifiche o pseudoscientifiche nell'epoca della comunicazione avanzata 2.0, 3.0. Mai come prima le società hanno a disposizione una quantità di informazioni spesso contraddittorie che chiedono al singolo cittadino e al singolo studente oggi di essere un esperto di bioetica, domani di carburanti, dopodomani di inquinamento ambientale e dopodomani ancora di manovre economiche, per citare alcune delle cose tipicamente nell'agenda dei mezzi di comunicazione di massa. Gli esempi che noi gli facciamo fare consistono proprio nel recuperare alcuni elementi basilari della critica delle fonti allo scopo di attualizzare queste competenze metodologiche, non più ovviamente sui testi che gli amanuensi ricopiavano intorno all'anno 1000, ma sul milione di conversazioni che circolano su Facebook, ad esempio. Come si fa a discernere la conoscenza quando la quantità di informazioni contraddittorie, peraltro, è di questa portata? Ad esempio, uno dei metodi su cui faccio fare le prove ai miei studenti è quello che Umberto Eco ci ha consegnato quando non più di un paio d'anni fa è passato in una delle sue ultime, se non l'ultima, lexio magistralis, prima di lasciarci qui a Torino, facendo riferimento ad esempio al fatto che non bisognerebbe stupirsi ed eccedere in meraviglia quando si viene bombardati da una notizia. Abbiamo lasciato entro certi limiti libertà di scelta, per esempio l'anno scorso qualcuno ha rispolverato le teorie del complotto sull'11 settembre, qualcun altro appunto i vaccini, qualcuno si è concentrato su un tema per esempio a me molto caro che era l'impatto del terremoto dell'Aquila del 2009 sulla Commissione Grandi Rischi, la cosiddetta condanna in primo grado degli scienziati della Commissione Grandi Rischi e su come ad esempio questa notizia sia stata trattata in televisione, ci ricordiamo tutti quando a porta a porta Gioacchino Giuliani, che non era uno scienziato esperto di sismi riconosciuto da nessuna comunità scientifica, non aveva un curriculum vitae adeguato sotto il profilo scientifico per poter essere definito esperto, non ha nessuna pubblicazione di rilievo pubblicata su nessuna rivista di settore con peer review anonima, insomma non aveva nessuno dei crismi e dei criteri per essere identificato come un esperto era stato messo a dialogare in collegamento con l'allora direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia. Nel momento in cui rispetto a un argomento io confronto una fonte autorevole, perché c'è un curriculum e una serie di pubblicazioni che lo dimostra con qualcuno che va in direzione ostinata e contraria ma non ha nessun elemento per poter essere definito un esperto, sto rappresentando al mio pubblico una immagine del dibattito scientifico su quel tema come se fosse perfettamente diviso a metà cioè come se fosse un derby calcistico con una curva che ti fa da una parte e una curva che ti fa dall'altra parte cioè dalla parte opposta, ma la scienza quasi mai si trova in queste condizioni. È un problema sociologico smascherare questi elementi che sono strategie di narrazione mediatica perché la dialettica fa audience e quindi crea dei testi narrativi mediatici molto più attraenti e molto più interessanti da essere visti ed è anche un problema politico nel momento in cui sulla base di queste rappresentazioni milioni di cittadini si fanno delle idee più o meno distorte e poi prendono delle decisioni, vanno a votare o adottano o rifiutano determinati comportamenti nella loro quotidianità producendo degli effetti aggregati che diventano poi un elemento, un fenomeno interessante ma anche potenzialmente un problema da gestire per chi poi deve governare un territorio. La risposta che in maniera istintiva verrebbe da dare a una notizia come quella da senso comune è quindi evidentemente ci sono delle generazioni che con il passare del tempo instupidiscono cioè diventano più ingenue al punto da perdere la capacità di svolgere è una parte significativa degli elementi chiave delle attività cognitive degli esseri umani così come ci siamo evoluti. L'esplicazione è un po' più complessa e deve chiamare in causa ad esempio il fatto che molti di quegli studenti se non sono nativi digitali poco ci manca cioè fanno parte di quelle generazioni che se non sono nate con un oggetto, un device multimediale tra le mani probabilmente lo hanno avuto nei primissimi anni della loro vita o del loro sviluppo cognitivo per cui quegli ambienti virtuali li possiamo concepire per loro come un ambiente naturale e allora un ambiente naturale è un ambiente dove molte cose che agli occhi di uno sguardo straniero sembrerebbero strane o quantomeno degne di approfondimento e di suscitare interrogativi non lo suscitano affatto. Questa incapacità di distinguere i diversi tipi di contenuti si deve al fatto che i nuovi soggetti non ritengono quelle delle differenze interessanti al punto da generare delle informazioni e delle interrogazioni. Stiamo vivendo un cambiamento epocale dell'ecosistema delle informazioni online. Esistono degli esemplari, quelli che sono stati interrogati da questa ricerca, che si sono adattati probabilmente prima di noi. L'evoluzione della specie ha segnato continuamente momenti di questo tipo e non è detto che la specie che poi è sopravvissuta fosse quella più intelligente, più forte, ma semplicemente quella che ha saputo adattarsi meglio al cambiamento.